Musica L'importante è riuscire a fare un tempo che si avvicina a quello di mio figlio Pietro Speriamo Punto a 1.8 e 1.8 e 2 Vediamo cosa succede Ma io sapevo per cui ci sarebbe stato il sole Perché il papà mi aveva assicurata che oggi sarebbe stato bello E' stata dura, mi sono girato un paio di volte le qualifiche Poi però alla gara sono riuscito a piazzarmi secondo E da lì non mi sono più mosso Va bene così Siamo alla partenza della gara Sono abbastanza agitato Però ho studiato le curve E quindi sono fiducioso Sono fiducioso Musica 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 Prima gara kart PFM Direi che è stata Questa pista di non altro è veramente eccezionale Il kart è una bella storia È divertente Ragazzi si stanno divertendo tutti Siamo circa 180 dipendenti PFM qui oggi E devo dire che è una serata meravigliosa Grazie All'esterno Poi all'interno Si difende più avanti L'ultima curva L'attacco di Busin all'interno Ruota a ruota Busin si infila Con Fioravanti Due Arrivano in violata Quasi abbaiati E va a vincere Luca Busin Incredibile Per soli 20 millesimi Nei confronti di Stefano Fioravanti Che finale pazzesco Allora bellissima vittoria inaspettata Un po' di avversari tenibili Ma in qualche modo con un po' di fortuna Ce l'ho fatta però Premiamo Fabio Castelli Secondo classificato Fioravanti Stefano All'ultima curva L'ultima curva Luca Busin Luca Busin Applauso applauso Bravo Stiamo qui anche per festeggiare i vent'anni dell'entrata dell'MPP nel nostro gruppo Stiamo qui anche per festeggiare i vent'anni Stiamo qui anche per festeggiare i vent'anni Stiamo qui anche per festeggiare i vent'anni Grazie a tutti.